Non bastava solamente la targa per ricordare il campione e il suo passaggio a Villa Pitignano. Per Marco Pantani ci voleva anche qualcosa di più concreto, una lapide che ne ricordi le gesta di quel ragazzetto appena diciottenne che perse la sua corsa per un soffio su quella salita che lui amava tanto e che lo ha distinto tra una moltitudine di ciclisti. La lapide è stata realizzata da Paolo Spaccia, un tempo vicepresidente del gruppo sportivo Villa Pitignano e imprenditore del settore del marco. Il paese sullo sfondo è Marco Pantani stilizzato con la scritta che ricorda quella partecipazione il 15 aprile del 1988 a quella gara organizzata da quel gruppo di uomini che hanno la passione del ciclismo nel cuore. All'intitolazione della piazza doveva intervenire anche la mamma di Marco Pantani, Tonina Belletti, che dopo la morte prematura del figlio ha dato vita alla fondazione Marco Pantani. I suoi problemi di salute purtroppo la tengono lontana dalle iniziative e dal potersi muovere per celebrare il ricordo del grande campione. Quando ci hanno proposto di intitolare questo piazzale a Marco Pantani siamo stati molto contenti perché credo che nella storia del ciclismo sia una persona che è rimasta nel cuore di molti anche per le vicissitudini che ha avuto e anche per il riscatto che ha avuto. E quindi è bello festeggiare insieme, è bello festeggiarlo con una comunità che si ritrova oggi all'insegna dello sport ma anche all'insegna dello stare insieme in un momento dove purtroppo lo stare insieme ci è mancato molto. E quindi inaugurare oggi questo nuovo percorso che ci troviamo di fronte accanto a tante persone che in questi mesi abbiamo visto spesso attraverso uno schermo. Quindi è molto bello e quindi di questo possiamo ringraziare la nostra società sportiva la società che gestisce questo spazio e che sarà appunto dedicato a Marco Pantani. Tossello farà un certo effetto sul nuovo indirizzo scrivere gruppo sportivo Villa Pitignano piazza Marco Pantani no? Infatti fino ad oggi non avevamo neanche un recapito e abbiamo dato importanza a questo che poi spero diventi ancora di più un centro associativo, un centro di incontro tra ciclisti ma non solo e poi staremo a vedere. Insieme all'amministrazione comunale abbiamo già qualche idea e vedremo un po' di fare qualcosa di buono. Oggi il sorriso è doppio per questa iniziativa perché vedo fra l'altro che stanno arrivando anche dei ragazzi giovani ma soprattutto una presenza ben oltre a quella degli addetti ai lavori e qui veramente l'iniziativa fra GS Villa Pitignano e il Comune secondo me ha creato insieme questo risultato cioè non c'è solo la società sportiva dietro la celebrazione di una figura simbolica come il grande pirata ma c'è proprio un'identità collettiva che va oltre il ciclismo e che in questo caso come dire traduce l'immagine del pirata come un riconoscimento di un bene comune quindi il GS Villa Pitignano che agevola quello che è l'indicazione di una piazza dedicata a Marco Pantani è anche un po' il richiamo della propria storia dentro un atleta che ci ha trasmesso oltre le sue imprese uniche e memorabili anche quello che è il senso del fare sport mettendoci in prima cosa l'anima e la passione e la voglia di migliorarsi sempre e di non prevaricare l'avversario insomma Pantani è stato forse uno dei più grandi campioni della storia e sembrava necessario forse doveroso impegnarsi per far sì che il suo nome potesse essere ricordato oggi e soprattutto in futuro e poi ovviamente è in cima alla salita il posto preferito di Marco Pantani esattamente poi il ciclismo diciamo così si concretizza in salita anche perché come dicono i nostri tecnici in discesa camminano anche le zucche sembrerebbe verità tra l'altro quindi avere la sede in cima a una salita rappresenta ancora di più diciamo così il ciclismo interpretato da Marco Pantani grazie a tutti